Un episodio molto grave, solidarietà totale mia personale come sindaco e di tutta l'amministrazione all'Arma dei Carabinieri che è un'istituzione talmente solida che non si fa certo fiaccare né intimidire da questo episodio così grave. Semmai questa è un'ulteriore occasione per non solo dimostrare vicinanza assoluta alle donne e agli uomini dell'Arma ma anche di tutte le altre forze dell'ordine, ma anche di chiedere al governo di mantenere quell'impegno finora disatteso del rafforzamento delle forze dell'ordine nella nostra città, perché la nostra città ha bisogno sempre di più di controllo del territorio, sicurezza, soprattutto in questo periodo, in questi anni che Napoli è diventata una delle città internazionali a maggior respiro, a maggior voglia di esserci, dove si sta investendo e chiaramente la sicurezza è un elemento assolutamente prioritario per la vita di una comunità.